Al via la nuova edizione di X Factor, ce la presenta Alessandro Cattelan. Che novità e che sorprese ci dobbiamo aspettare quest'anno? Dovete aspettarvi grandi talenti, dei cantanti pazzeschi, perché alla fine X Factor si basa tutto su questo, è uno spettacolo ma che comunque non dimentica mai che il vero protagonista è il talento dei cantanti, quindi abbiamo scelto 12 cantanti veramente eccezionali, anzi forse qualcuno in più. Bene, allora c'è già un favorito? Non si può guardare, io a memoria delle esperienze dell'anno scorso ho capito che è un po' come nel calcio, può succedere veramente di tutto, quindi non lo so, non ho ancora fatto in tempo a capire quali sono i miei preferiti, forse i gruppi è sempre quello che può dare delle sorprese, perché comunque è la categoria più ostica, gli altri sono molto bravi ed è evidente da subito. I gruppi sono quelli che ogni anno possono stupire maggiormente. Ma è più complicato lavorare con Morgan o con uno degli altri giudici? No, nessuno, nessuno, poi in realtà sono persone diverse ma sono persone diverse secondo aspetti che a me piacciono e quindi con ognuna ho dei punti di contatto particolari che mi piacciono molto. Ciao utenti dello spettacolo.it, X Factor sta arrivando a prendervi, a casa vostra non ci sfuggirete, ci vediamo giovedì.